Ma è vero che ai bambini piacciono di più le cose meno sane? Non so, le patatine, il cioccolato, è vero? Sì, è assolutamente vero. Come madre di un adolescente posso confermare che tutto quello che è fritto e tutto quello che è cioccolato è in assoluto, potrebbe essere una cena. L'attrattiva principale. Potrebbe pranzare e cenare, un ragazzino di oggi potrebbe pranzare e cenare con qualcosa di fritto e con del cioccolato come dessert. E allora come facciamo a insegnarli a mangiare diversamente? Un po' il discorso che faceva anche la dottoressa Biale, un'educazione che deve cominciare da piccoli facendogli conoscere e manipolare il cibo. Addirittura, per mia esperienza personale, io ho scoperto che è più facile far mangiare ai bambini le verdure se appena ne abbiamo l'occasione possano andare in gita in campagna, piuttosto che a trovare i nonni che hanno l'orto, eccetera. Gli si porta, gli si fa vedere che i pomodori crescono sulla pianta, che il pollo ha due zampe e non sai cosce come nella confezione del supermercato. E poi dal momento dello svezzamento cucinare per i bambini. La mamma tende a prendere le farine, il brodino, le pappette, spesso anche per comodità, molti prodotti pronti e si dimentica di fare il brodo vero, di fare il passato partendo da una vera fettina di carne o da una vera fettina di pesce. Quindi finché è piccolo tutto quello che è morbido, bene o male si riesce a farglielo mangiare e lui e lei imparano a distinguere i gusti. E questa è una cosa che poi si portano avanti. Allora continueranno a preferire le patatine, ma poi poco per volta apprezzeranno una buona carne, un buon pesce nonostante le spine, perché sono dei sapori che hanno imparato ad amare.